buonasera a tutti vorrei parlarvi questa sera con il grafico del vix che non vi mostravo da un po di tempo che continua a essere comunque alto e sopra il livello di guardia che mediamente passa attorno ai 20 punti e noi siamo ancora a 29 punti con divergenza per alto rialzista e quindi vediamo volevo parlarvi questa sera di quelli che sono i gruppi o che frequento o che coordino gruppi di trader un primo gruppo è estremamente poco nutrito ma è il gruppo più interessante quello con cui mi raffronto quindi sono amici e conoscenti di lunga data di cui io stima e che hanno stima di me con cui c'è un bel concambio di informazioni e di view sui mercati questi sono trader che posso contare probabilmente sulle dita di una mano o al massimo di due mani che sanno fare bene il loro lavoro e che lo fanno bene da anni per cui con un discorso di stima reciproca ci si raffronta sia su whatsapp che su altri social che per telefono semplicemente eventualmente ci si ritrova ma non in questo periodo ed era uno dei gruppi che menzionavo in un'analisi che è stata cancellata da trading view poi c'è un altro gruppo ci sono altri due gruppi due gruppi che coordino e a cui racconto l'analisi ciclica evoluta e a cui eventualmente faccio vedere determinati trade o parti di esse a cui faccio fare ragionamenti in modo da portarli a imparare l'analisi ciclica evoluta e questi gruppi sono molto eterogenei uno è una community di più di 1000 persone l'altro è un gruppo molto più ristretto che riceve anche informazioni più riservate questi gruppi come detto sono composti da persone che o magari sono le prime anni hanno appena iniziato ad affrontare il discorso di analisi ciclica evoluta in ottica costruttiva e quindi vogliono imparare qualche cosa di interessante e che porta loro profitto nel frattempo oppure si tratta di persone che hanno già un loro metodo che hanno visto però la valenza del mio e quindi vogliono capire come muoversi e come operare nel mezzo tanti altri per cui sono gruppi estremamente eterogenei da cui peraltro trago anche spunti interessanti perché ritengo che la ciclica possa evolvere la mia sia già una ciclica evoluta perché incorpora tante cose che la vecchia ciclica non incorporava come gan volumi tanti elementi grafici candele giapponesi divergenze e tanto altro e che quindi da più profitto a chi la utilizza per cui c'è un concambio dando informazioni e permettendo a questo gruppo di persone a questi due gruppi di persone di formarsi a mia volta mi formo se vedo cose interessanti che mi possono persino dare loro imparo da chiunque mi possa dare informazioni che posso pensare che siano valide e utilizzabili con dei trade operativi sono sempre aperte eventuali collaborazioni o almeno da ascoltare poi ci sono altri gruppi di persone che incontro in forum o su piattaforme come tradingview per cui quando utilizzo la parola gruppo non esplicitamente faccio riferimento a un solo gruppo quello che coordino su facebook le persone che magari incontro su youtube sul mio canale faccio riferimento a determinate persone e a tante persone differenti e a tanti gruppi differenti perché ho tanti gruppi differenti non soltanto appunto quello che coordino su facebook per cui anche a moderatore e a chi lavora su tradingview chiedo cortesemente di evitare semplici problematiche non dando per scontato che mi riferisco un gruppo piuttosto che un altro perché come detto ci sono minimo tre tipologie di gruppi di persone di trader che incontro il primo amici di lunga data il secondo community e gruppo premium su facebook terzo altre persone su altri forum o su altre community come appunto tradingview non ho un solo gruppo a cui dedico più tempo ne ho vari e scelgo quanto tempo dedicare ed eventualmente quanto dare dell'analisi ciclica che ho voluta ad ognuno a volte e do a tutti lo stesso identico grado di informazioni capita raramente ma tenetene sempre conto per cui vi ringrazio ancora una volta per il vostro tempo era un discorso che volevo fare da tempo e su cui bisogna riflettere vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi auguro una buona serata grazie a tutti